buongiorno buongiorno stamattina siamo con Filippo eccolo qua che stiamo a fare montare l'aria condizionata montiamo l'aria condizionata i nonni non sanno niente buongiorno buongiorno sai chi è lui o no è quello che ti monta l'aria condizionata o sei contenta no adesso non potevi dire che eravamo alzato devo fare una sorpresa no no via noi iniziamo a lavorare che è meglio alzate però dai fermati sei contenta? guarda che capito va via Federico sei contento o no? e beh non avevo detto niente io volevo fare una sorpresa sei contento tu che adesso? sei contento sì senti che frullo salutiamo saluta o no? salutelo da qui al pinguino ma cosa fai? saluta al pinguino ci saluto il cazzo no ma cammino va lei te dico io fa 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 oggi non c'è non c'è ma sei contenta che mettiamo l'aria condizionata? non c'è un caldo che si schioppa sei contenta o no? certo grazie grazie Federico grazie grazie fateli sta freschi nonni sono stata a milano e c'è girava la voce che il papa si era dimesso no no lui è buono non si dimette ama gli ultimi dammi Retta sei dimesso va via sei dimesso va via ah allora ne vedremo nelle belle pensate nonna maria quando monterà qua qua pazzesco anche oggi allenamento fatto l'ho spaccato tanto grusso guarda che freddo grazie anno vaffanculo gli dovete di sempre vaffanculo che almeno è contento perché mi ha fatto faticare sentiamo in camera di nonna montato il condizionatore che paradiso grazie Federico come ti potrà mai ringraziare eh vabbè ringraziamo anche Filippo si quello è sì ah se sta bene perché questo eh l'inverno butta anche l'aria calda eh Filippo è vero? è vero è vero ma così ti spettino un po' i capelli no? no no è tanto bene guarda quanto è contento il coccodrillo eh Filippo ha messo i condizionatori eh come sono Anna Marie? bellissime guardate ragazzi è una mano d'oro ecco da lì qui vi ho detto tutto ringraziamo Filippo e saluto grazie grazie a tutti voi grazie grazie come è andato sto giretto sulla macchina? con l'amor della madonna perché? adesso quando mi vuole al salito do la fotografia perché? perché io vettavo no ragazzi intanto iscrivetevi sul mio canale youtube fate swipe e presto ci sarà il video che sta a fare? le vede di coglione che sta a fare? che sta a fare? questo fa questo fa che sta a fare? fa quel che non facevo io che sta a fare? non vuoi un pennellino? non vuoi un pennellino? non vuoi un pennellino? non vuoi un pennellino? buona vuoi? no guarda come ti metto la goccia guarda come ti metto la goccia? guarda come ti metto la goccia? guarda come ti metto la goccia? sono loro sono loro sì 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 sono loro sono loro sì 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 che so che so che so o no? my god è un pennellino? eh ma non vuoi un pennellino? non vuoi un pennellino? ma non vuoi un pennellino? hehehehe oh ma non vuoi un pennellino? Sì, non è una capocca, non è capitata. Che succede? Che succede? Dormimmo? Vai sul lettino, dai! Dai! Ma dormi! Ma dormi! Ma non dormi! E che fai? Dormi, guardi! Guardi? Che guardi? Che guardi? Che guardi? Oh, che guardi? Ma dormi? Andiamo sul lettino per noi! Nooo! Non dormi! Riposa gli occhi! Ma non dormi! Codrilli! Tutti ad ascoltare la nuova canzone di Giulia e Silvia! Fate swipe, io la sto ascoltando in macchina! Proprio un bel sound! Grandi ragazze! Voglio bene amiche mie! Ma chi è questo? Ma eccolo! Ah la stia carina! A direttino tre volte! Eh! Questa è la prima foto che abbiamo fatto insieme! Ma guarda le luci blu che sta accendendo! Prima sì! È su! Chi è Mamu? Quell'opera? Chi è? È The Taylor! Domenico Dolce! Ma non è Sergio! Sì! 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 Con la chitarra lo scommetti! Io sono cantante! Sì! Sono cantante! Posso dare? Fami sconda la chitarra! No! Oh! Eccola! La vera spiaggia! Qui abbiamo il reparto notte perché c'è un amico che si addormenta spesso! Chi è? Allora gli abbiamo fatto il reparto notte! Lì è il reparto giorno! Reparto giorno! Sì sì! Che... Che gli avevi! Che gli avevi! Che gli avevi! Che gli avevi! Vedi come mandrattano le persone! Ma... Cincilà com'è messo? Cincilà è sempre messo al fresco perché... Non calcià! È sempre messo al fresco perché... Ma... ah beh allora si salza il cincillà fermete! fammi toccare il cincillà bello guarda come la benedizione benedicus uovis impotentis deus peccatorius bagnadorum ameno esci satana da questo corpo malefico eccolo eccolo ah Antonello sei carico eccolo la eccolo mi amico Grazie Sei pronto Sandico? Sì Come fai? Grazie Come è? Tu sei il mio amico speciale E meriti un giro speciale Sei pronto? Sì Come è? Bene Come fa? Come fa sta macchina? Come? Sì Ma perché me l'hai chiesto il peggio mio? Eh guai Viva la figa Come? Sì Come? Viva la figa Come? Sì Futtati 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 Ragazzo Futtati Come scuettiti? Futtati 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 Chi è questo ragazzo? Futtati 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 Chi è questo ragazzo? Futtati 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 Sei contento che stai anche sulla macchina? Futtati 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 Eccolo Futtati Futtati basta questo telefono, che stai guardando? stai guardando il menù stai guardando io veramente sempre questo telefono sei imparato adesso? no vabbè fatti storie come se non pagassi mai che si scrocca proprio non è vero oggi piove scrocchella vince ancora scrocchella conquista tutto di me ma che cazzo rinchi? eccolo eccolo